Incidente mortale la notte scorsa in via Marinella a Castelvetrano a perdere la vita a Francesco Ancona, un giovane 33enne del luogo. La tragedia si è consumata nel corso di uno scontro frontale avvenuto tra uno scooter Piaggio Liberty condotto da Ancona e una Fiat Panda guidata da un giovane anche egli di Castelvetrano. A perdere la vita è stato dunque il conducente del veicolo a due ruote, molto conosciuto in città per via delle sue occupazioni in diverse pizzerie della zona, era anche un tifoso accanito della Folgore. Prontamente intervenuti sul posto i carabinieri e l'ambulanza del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'impatto è stato infatti violentissimo, come se vince dalle immagini della Panda totalmente distrutta e Francesco Ancona è morto sul colpo. Insieme a lui sul Piaggio Liberty viaggiava anche una donna di 40 anni che è stata trasferita in ospedale, attualmente in prognosi riservata. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. A bordo invece della Panda, oltre al conducente, c'era un altro giovane. La dinamica del sinistro è al vaio dei militari della Compagnia dei Carabinieri di Castelvetrano. L'uomo procedeva in direzione centro città, mentre lo scooter viaggiava in direzione marinella di Selinunte.